dunque ho appena pubblicato un paio di video dopo 22 giorni di riposo questa in questa estate del 2023 proprio per testare il livello di performance anche interpretativo nonostante questo diciamo abbastanza lungo periodo di riposo totale nel quale ho praticamente preso la chitarra dopo esattamente 22 giorni non ho neanche minimamente non ho neanche guardato la custodia dello strumento quindi sono stato lontanissimo ecco questo per dire che cosa che se la preparazione che fai durante l'attività annuale quindi sugli 11 mesi è una preparazione che ha delle fondamenta scientifiche che è sostenibile ed è una preparazione nella quale tu costruisci qualcosa di solido non saranno 15 20 giorni a demodire tutto nel momento in cui tu ti allontani dallo strumento due giorni tre giorni una settimana due settimane tre settimane e vedi che crolla tutto vedi che il tuo livello di concentrazione di controllo interpretativo e tecnico cade completamente vuol dire che la tua preparazione non è solida non è solida il tuo sistema neuromuscolare probabilmente non è cresciuto di livello per controllare tutti quei parametri interpretativi e tecnici di cui il musicista deve assolutamente entrare in in possesso il più possibile quindi c'è da riprogrammare completamente tutto c'è da ricambiare cambiare il il c'è da cambiare totalmente il paradigma sullo studio io non mi stancherò mai di dirlo non è possibile continuare a suonare uno strumento musicale studiare uno strumento musicale senza una un minimo di preparazione scientifica su quelle su quella che riguarda la performance diciamo su quelle che sono i principi della scienza motoria non dico che uno deve essere un esperto di scienza motoria ma almeno conoscere un po di fondamenta capirli come applicarli sullo strumento perché se no si rischia di andare a così a casaccio di non strutturare un lavoro nel modo giusto in modo solido non organizzarlo e quindi rischiare di non essere proprio in forma e di non essere soddisfatti delle proprie performance durante una un concerto quindi attenzione perché questo è un qualcosa che noi potremmo definire come una sorta di emergenza sociale legata al mondo dell'interpretazione del concertismo perché sempre più spesso ci sono persone che quando suonano in pubblico rendono molto di meno rispetto a quello che fanno quando sono da soli nella nella loro zona comfort quindi fate molta attenzione all'inizio di questo nuovo anno diciamo accademico a diciamo organizzare pianificare bene la vostra settimana di studio il vostro mese di studio le attività esterne di miglioramento della vostra capacità psicofisica perché sennò rischiate di avere delle brutte sorprese nel momento in cui vi allontanate per qualche giorno dallo strumento poi ritornate che sembra quasi che non sapete fare neanche due note quindi auguro a tutti quanti voi un buon ritorno allo studio e speriamo che quest'anno sia sempre sempre meglio per tutti grazie